Fabio Balasso, siamo agli sgoccioli di questa week 3, siamo agli sgoccioli di questa fase preliminare con l'Italia lì su in alto, 9 vittorie in 3 settimane, un bilancio abbastanza positivo per gli azzurri? Sì, sicuramente molto positivo per noi, era l'obiettivo che volevamo raggiungere per posizionarsi il meglio possibile in classifica per poi arrivare alle Finals nel modo più positivo possibile. Si è detto tanto di questa settimana che l'Italia è stata brava a non mollare, a ribaltare partite importanti e a conquistare le vittorie che sono quelle che contano, che settimana è stata? Ma è una settimana molto importante per noi perché abbiamo raggiunto, abbiamo fatto dei passi in avanti anche sotto il punto di vista del gioco, abbiamo migliorato alcune cose che magari nella scorsa settimana non erano andate benissimo e adesso comunque arriviamo a quest'ultima partita, molto importante per noi ma anche e soprattutto per loro dove vogliamo continuare il nostro percorso di crescita per arrivare al massimo alle Finals. Dall'altra parte del campo, domani per chiudere questa fase, l'Olanda di Roberto Piazza, di Nimiro, una squadra tosta? Sì, come ho detto prima è una partita molto importante per loro perché comunque vogliono cercare di portarci a casa questi tre punti o comunque questa vittoria perché vogliono rimanere all'interno delle prime otto e quindi come ho detto prima sarà importante per noi continuare a pensare al nostro gioco e al nostro percorso di crescita per arrivare al meglio. Fefe De Giorgio ha dato spazio a tanti in queste settimane di WNL, tu sei riduce dall'inizio di questo ciclo azzurro lo scorso anno, un inizio importante, come hai ritrovato questo gruppo quest'anno? L'ho ritrovato sicuramente con degli nuovi innesti che è importante sicuramente aggiungere nuove forze a questo gruppo, ma comunque rimane sempre un gruppo molto compatto e molto unito sia all'interno che fuori dal campo. Con Leonardo Scanferla condividete le chiavi della seconda linea azzurra per questa settimana, insomma parliamo del gruppo, come ti senti integrato, come vi sentite integrati in questo gruppo allargato? Ma come ho detto prima è un gruppo molto unito, anche se magari nelle settimane arrivano o tornano i giocatori che comunque non ci sono stati i weekend scorsi, noi comunque ci troviamo subito bene tra di noi e quindi anche se è un gruppo molto allargato siamo bene uniti tra di noi. Sempre a proposito del gruppo, si è detto tante volte questo NoItalia, tra l'altro nato proprio da una tua idea, che significa per Fabio Balasso NoItalia? Beh, noi è proprio, secondo me è la parola che raggruppa tutti noi, tutti noi come gruppo ma anche tutti i tifosi che ci seguono da casa. E a proposito di tifosi, un occhio già alle finals di Bologna, l'Italia ci arriverà comunque da prima con la speranza di arrivarci anche sul campo da prima, che finals saranno in un'Unipoll Arena sicuramente vestita a festa? Sicuramente saranno delle finals molto importanti per noi perché ce le giochiamo in casa, saranno bellissime perché ritorniamo in casa a Bologna che è un palazzetto molto bello e sarà molto seguito e adesso speriamo di dare il massimo in queste finali e dico di seguirci sia da casa ma di venire a vederci anche al palazzetto. È un momento importante per te l'europeo, lo scudetto, con quali sogni è arrivato Fabio Balasso a questa estate azzurra? Beh, i sogni non si finisce mai di sperare, quindi spero in grandi in questo WNL, in questo finale di WNL e anche per il Mondiale.